Sago e Patna rappresenta una nuova dimora. Ci troviamo in via Petitti 16 in zona Portello e a pochi minuti da City Life. Vi accompagniamo in questa dimora partendo da un polmone verde in questo complesso condominiale anni 60 che gode di riservatezza e silenziosità. Il palazzo signorile è dotato da ascensore e portineria. Al quarto piano di questo stabile accediamo a questo luminosissimo trilocale di 130 metri quadrati con un ingresso in soggiorno doppio, ampia libreria e sala da pranzo dal quale si accede a questo comodo ed abitabile terrazzo, cucina separata con balcone con un affaccio esclusivo sul verde. Tramite un comodo disimpegno si accede alla zona notte con una prima camera matrimoniale con ampie armadiature, una seconda e ampia cameretta, oltre a due bagni di cui una lavanderia e un bagno per gli ospiti. Completa l'abitazione una cantina di pertinenza, una soluzione luminosa, confortevole, pronta ad accogliere un nuovo nucleo familiare. Vi aspettiamo, Sago Repartner!